La comicità è di casa su Italia 1. Questa sera, giovedì 27 dicembre 2018, sulla rete giovane di Mediaset, andrà in onda lo show di Maurizio Battista, ex concorrente del GF VIP 3. Lo spettacolo, davvero esilarante, si intitola Io sono Battista. Cosa dovranno aspettarsi i telespettatori? Ecco alcune anticipazioni. Io sono Battista Le anticipazioni per trascorrere un Natale in allegria su Italia 1 sono scesi in campo i comici. Stasera vi sarà lo show Io sono Battista, ma prossimamente altri colleghi di Maurizio Battista approderanno in prima serata per far ridere tutti i telespettatori. Dal Teatro Colosseo di Torino, come dicevamo, andrà in onda stasera, Giovedì 27 dicembre 2018 Lo spettacolo ideato, scritto e realizzato dall'ex concorrente del GF VIP 3 che è uscito dalla casa più spiata d'Italia di sua volontà perché sentiva una fortissima nostalgia di casa e soprattutto della sua famiglia. Cosa farà Battista? Ebbene il racconto dell'attore prenderà il via proprio da una frase che pare descriverlo appieno Io non ho bisogno di scrivere pezzi comici, la mia vita reale è tutta un pezzo comico. Punto con il suo stile inconfondibile Battista racconterà a tutti aneddoti esilaranti cercando così di prendere in giro le abitudini di alcuni italiani, ma soprattutto alcuni comportamenti e molto malcostume. Maurizio Battista guiderà, pertanto, lo spettatore in un percorso ironico attraverso la sua quotidianità, spesso affine a quella del proprio pubblico. Ciascuno potrà identificarsi in quanto raccontato e sostituirsi al protagonista ridendo così dei propri difetti o delle proprie sfortune. Punto la forza di Maurizio Battista risiede proprio nel racconto diretto e senza filtri della vita di tutti i giorni. In essa si riconoscono senza problemi vizi e virtù dell'italiano medio. Battista, infine, interagirà con il pubblico in sala che, in un serrato botta e risposta, sarà chiamato più volte a condividere le proprie esperienze. I vari monologhi e i cavalli di battaglia saranno poi arricchiti dalla proiezione di fotografie personali del comico, ma anche da alcuni divertenti articoli presi dal web. La comicità di Maurizio Battista è la battuta che Elia non ha mai capito La comicità di Maurizio Battista è stata, dentro la casa del GF VIP 3, oggetto di una accesa lite fra lo stesso comico ed Elia Fongaro, l'ex velino distriscia la notizia. Una battuta non capita ha dato il via ad uno scontro verbale molto acceso creando, come i telespettatori del reality condotto da Hilary Blasi ricorderanno, alcuni malumori e diverse tensioni. Superato il momento, però, Battista e Fongaro sono diventati ottimi amici. La lite è servita loro per stringere un rapporto che, senza di essa, forse, non sarebbe mai cresciuto ed andato oltre la semplice convivenza. Grazie per la visione!